Musica Riprende la seconda parte del nostro festival con un classico del circo, il contorsionismo. Ce lo presentano tre stupende fanciulle mongole. Musica Come quasi tutta la stupende fanciulle. Tutte le arti del circo, soprattutto questa, la contorsione, bisogna iniziarla in giovanissima età. In questo caso addirittura a quattro anni, quando il corpo della bambina è ancora utile. Musica Musica Sono bellissimi esercizi in una estrema difficoltà. Musica Perché non si tratta solo di contorsionismo, ma anche di equilibrismo. Musica La contorsione fa parte della cultura femminile mongola. Queste tre bravissime artiste hanno voluto assumere il nome d'arte della loro maestra, una vera leggenda vivente della contorsione mondiale, la signora Erin Dori Dori. Sta ringraziando la televisione italiana per l'onore e per il loro numero. La signora Erin Dori Dori è entrata in pista per sostenere moralmente le tre giovanissime contorsioniste. Perché questo è il loro debutto ufficiale in una grande manifestazione come quella del Festival Internazionale di Muciao. Musica 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 Così si conclude questa stupenda attrazione mongola di contorsionismo. Musica 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 Musica